Oddio, 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 no! Non lo scampiamo! Raga ho sentito dire che ogni giorno in un parcheggio poco distante da casa mia Verso le 17.05 Adesso sono le 16.56 Viene avvistata la Serbian Dancing Lady Abbiamo 9 minuti di tempo per andare in quel parcheggio Ma non ci andrò da solo perché ho troppa paura Per questo oggi ho chiamato Alessandro per venire con me Sei pronto per vedere la Dancing Serbian Lady? Faccio di botte Sono passati altri 2 minuti Quindi abbiamo ancora 7 minuti di tempo per andare al parcheggio Raga il parcheggio è quello lì Ci stiamo avvicinando Sono le 17.04 ragazzi manca un minuto Dov'è Ale? Tu la vedi? Da qualche parte? Io non la vedo da nessuna parte Oddio, oddio, cosi sono questi rumori? Oddio, oddio, oddio! Non lo scampiamo!